Dottore Amante, entriamo nel particolare di quello che è il tumore del cavo orale. In che cosa consiste? Il tumore del cavo orale, così come tutti i tumori che interessano i nostri distretti corporei, ha una origine, purtroppo, per delle mutazioni genetiche, spesso sostenute da un traumatismo, per esempio. La causa più frequente che noi ci troviamo ad affrontare al Marrelli Health, in particolare qui a Calabrodental, sono proprio tutti i tumori del cavo orale sostenuti, determinati da protesi non proprio congrue, quindi che non sono stabili, da elementi dentari che possono essere taglienti. E quindi questo traumatismo spesso genera questa trasformazione del tessuto sano in un tessuto patologico. Questo tessuto patologico è un tessuto che va immediatamente riconosciuto, individuato, è fatta quindi una diagnosi, spesso con una biopsia, per cui poi procedere con quelli che sono degli esami strumentali, l'esame cardine e la panoramica delle arcate dentarie, passare a una TAC, che può essere una TAC combim, ma molto spesso nel caso dei tumori che interessano anche i tessuti molli, è più indicata una TAC del massiccio facciale con un mezzo di contrasto, per poi procedere quindi all'eventuale terapia chirurgica, quando siamo in grado di poter essere radicali, come si dice in gergo, possiamo asportare in toto il tumore entrando, quindi rimanendo in un tessuto sano, oppure, come adesso ultimamente si è visto nella letteratura, ma anche nelle nostre applicazioni, i trattamenti radioterapici molto spesso sono neoadiuvanti, ci consentono di ridurre notevolmente la dimensione del tumore, lì dove soprattutto a carico del volto, del cavorale, la demolizione eventualmente sarebbe molto importante. Al Marrelli Health, nel reparto di radioterapi, trattiamo questi pazienti con una radioterapia mirata, cioè una radioterapia che va localizzata direttamente sul tumore, riducendo al massimo quelli che sono gli effetti collaterali, proprio post-attinici, cioè che conseguono la radioterapia. È un tumore diffuso questo? È un tumore spesso diffuso negli anziani, nelle persone che trascurano, hanno spesso purtroppo la paura di disturbare gli altri, di dar fastidio a un familiare, sono soggetti che hanno una piccola lesione, fanno degli automedicamenti, provano a fare degli sciacqui, la lesione non regredisce, pur di non dar fastidio spesso a un familiare, a un figlio, a un parente, giungono alla nostra attenzione quando ormai il tumore è in una fase molto avanzata. Per cui spesso sono diffusi negli anziani. Nei giovani, quando è presente, spesso viene riconosciuto, ma come molti tumori, purtroppo sono aggressivi nei soggetti molto più giovani. Quindi la loro aggressione deve essere il più rapida possibile, dal punto di vista chirurgico, come dicevamo prima, radioterapico. Ci sono dei sintomi per poter capire di essere affetti da questo tipo di patologia? Dicevamo prima che l'auto-ispezione è la cosa più semplice. Una visita odontoiatrica, dei colleghi odontoiatrici altrettanto valida e quindi poi da un patologo orale, da un chirurgo maxilofacciale, qualora il sospetto sia più importante. Ma come se ne fa ad accorgere un paziente da solo? La cosa più frequente è proprio un sanguinamento, un sanguinamento gengivale, magari sciacquando il caporale si vede un po' di saliva, che non sia saliva appunto colorata di sangue, da non attribuire a una banale gengivite, come spesso può succedere. Una lesione biancastra, un qualcosa di vegetante, ecco come un cavolfiore, qualcosa che non è presente normalmente sulla gengiva, sulla lingua, sulle guance, che facilmente per esempio può sanguinare, ma tutto ciò che normalmente ci dà un segno evidente di qualcosa di diverso dalla normale conformazione della bocca e della lingua. Questo è un sospetto che deve subito non allarmare, ma consentire e determinare di rivolgersi a uno specialista.